na 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 ehi, che cos'è questo rumore? oh no, c'è un gatto sul mio tetto! è così triste! devo chiamare un vigile del fuoco! oh, una telefonata! vigili del fuoco? aiutatemi! il mio gatto è sul tetto! hai bisogno di aiuto? ok, vengo subito! ok, grazie mille! sì, arriva il pompiere! oh no, il gatto! il gatto! dov'è il gatto? dimmi dov'è! è là! la 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 la! ok, ok! ecco il gatto! vieni, vieni gattino! vieni qui da me, ti prego! vieni! oh, sì! oh, gatto mio! che bello! adesso sei salvo, sì? ora sta bene! oh, hai salvato il gatto! sì! sì! ecco il tuo gatto! l'ho salvato! andiamo, forza! ho salvato il gatto! sono forte! sì! oh, questo odore è così buono! oh, che cosa c'è lì? oh, no! un'altra telefonata! pronto? qualcuno mi aiuti! scusa, che cosa? ok, arrivo subito! stanno venendo qui! che cosa sta succedendo qui? ho capito il problema! mi prenderò, ragazzi! ho quasi finito! quasi fatto! ah, ah, ancora un attimo! adesso andatevene! correte via di qui! oh, grazie mille! grazie mille, pompiere! prego, non c'è di che? sono forte! sto guardando la tv, ragazzi! ah, è tutto tranquillo! tutto è sotto controllo! quanto mi piace questo video! che cosa? ah, che succede? ah, 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 ah! devo chiamare qualcuno! cosa? una telefonata? pronto? ciao, aiuto! arrivo subito! ti vengo ad aiutare, certo! che sta succedendo? che posso fare? cosa devo fare? il televisore è fuori uso! il televisore è fuori uso? non mi chiamare per questo! ah! non mi chiamare più per questo! oh, grazie! non c'è di che? ma sono sempre cool! eh, eh, eh! la città è salva! molto bene! ragazzi, jason ha bisogno del mio aiuto! andiamo! oh, andiamo! andiamo! ehi, ragazzi! ah, giocherò qui! oh, no! è alto! è pericoloso! ah, è così alto! oh, è pericoloso! chiamerò un pompiere! benvenuti alla caserma dei pompieri! oh, ho una telefonata! aiuto! ho bisogno di aiuto! hai bisogno di aiuto? sto arrivando subito! ragazzi, jason ha bisogno del mio aiuto! andiamo! oh, andiamo! andiamo! dobbiamo salvare delle persone! salviamolo! aiuto, aiuto, aiuto! qui, qui, qui! oh, no! è in pericolo! sbrighiamoci! assicuriamoci il posto! ok, andiamo! ok, sbrighiamoci! aiuto, aiuto, aiuto! qui, qui, qui! ok, sono qui! sono arrivato! vieni, vieni giù! puoi farcela! forza, vieni! puoi farcela! sì, bravo! sì, bravo! grazie, pompieri! grazie a te! e fai attenzione! ok, pompiere! ciao, ciao! il mio lavoro è finito qui! restate in salvo, ragazzi! la, la, la! cammino con il gatto! oh, no! il mio gatto è sull'albero! aiuto, aiuto! devo salvare il gatto! sono alla stazione dei pompieri! pompiere, ho bisogno di aiuto! una telefonata! pronto? il mio gatto è sull'albero! aiuto! il tuo gatto è sull'albero? cavolo, arrivo subito! ragazzi, hanno bisogno del mio aiuto! andiamo! spreghiamoci! forza! al salvataggio! andiamo a salvare! aiuto, non riesco a prendere il gatto! devo aiutare il tuo gatto! oh, assicuriamoci il posto! l'ho presa! l'ho presa! aiuto! sono qui, tranquillo! ti aiuterò a prendere il gatto! tu stai tranquillo! grazie mille, pompiere, che sei arrivato! ti prego, salva il mio gatto, pompieri! non ti preoccupare, lo prendo subito io! ecco il tuo gatto! grazie per l'aiuto, pompiere! e di che? sei il benvenuto! grazie mille! sei il benvenuto! ciao! ciao! tutto a posto! il mio lavoro è finito qui! ciao, ciao, pompiere! nessun pericolo! tutto a posto! la, 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 la... oh, fico! ehi, posso essere un pompiere? ah, 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 certo che no! oh, per favore, voglio essere un pompiere! no! oh, per favore, per favore, per favore, per favore! assolutamente! oh! oh, no! fuoco! andiamo! dai, aiutami! forza, andiamo! mettiti questo! ho bisogno del tuo aiuto! ok, sono pronto! ora, sono un pompiere! mi raccomando, obbediscimi e fai bene il tuo lavoro! va bene? forza, andiamo! andiamo a salvare! oh, no! oh, quel fuoco è troppo grande! al fuoco! al fuoco! andiamo! andiamo! spegniamolo! forza! sì! se la facciamo! siamo troppo parti noi! sì! l'abbiamo spento! ottimo lavoro! batti cinque! amico, abbiamo fatto un ottimo lavoro! al fuoco! bene! andiamo! molto bene! andiamo! abbiamo fatto un ottimo lavoro, pompiere! grazie! ehi! c'è un altro pericolo! forza, andiamo! dobbiamo salvarli! pericolo! dobbiamo salvarli! c'è così tanto pericolo! oh, forza! salviamo i gatti! salvami, salvami! aiuto! sono qui! oh, sì! andiamo dai gatti! forza! salva il gatto rosso! io l'arancione! io salverò l'arancione! ok, ok! salva questo! ma resta qui! ok! ho salvato il gatto rosso! abbiamo salvato tutti i gatti! e io ne ho salvato uno! ottimo lavoro! ora sono un vero pompiere! sì, e sei davvero bravo! mmm! mmm!